Spettacolare salvataggio di una mucca nel primo pomeriggio di martedì 2 giugno a D'Arsiero. L'animale era accaduto in una scarpata sotto la provinciale 92 a D'Arsiero nel tardo pomeriggio di ieri che è stato recuperato con l'ausilio dell'elicottero Drago 71 dei Vigili del Fuoco. La mucca è impossibilitata a risalire dal punto in cui si trovava è stata imbragata dagli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti da schio, dissata con il gancio baricentrico dell'elicottero per essere poi adagiata su un prato in una zona completamente pianeggiata.